Salve coach, esordio con vittoria, al termine di una partita letteralmente fatta, dagli andamenti primo quarto dominato, secondo avete subito il rientro dell'HSC, fa il terzo quarto di nuovo la fuga, ultimo periodo rischiavate di perderla ma alla fine è stata vinta. Sicuramente l'approccio del terzo quarto sono stati ottimi e forse è la cosa più importante che devo rilevare in vista poi appunto guardando il risultato finale perché siamo riusciti a mettere quei 10 sui punti di vantaggio in cascina che siamo riusciti a non dilapidare totalmente e quando loro sono rientrati siamo riusciti appunto a contenerli e poi comunque a questo dello più è chiaro che si va avanti sull'entusiasmo, sulla grigia, sulla voglia, sul fatto che si possano anche regolare quei due palloni o perderli che cambiano l'inversa della partita in un'amen e quindi in un minuto può perdere anche 10 punti di vantaggio. I bravi loro comunque a continuare a difendere forte e a crederci e a portare comunque i risultati di nuovo in parità. Più non è qual è stata la chiave di questo vittorio? Sicuramente il fatto che noi abbiamo fatto tutta la partita una difesa a zona che gli ha un po' abbassato il ritmo perché noi sono molto bravi a giocare uno contro uno, sono molto bravi ad attaccare gli spazi e quindi abbiamo fatto questa scelta di fare tutta la partita a questa difesa che ha portato buoni frutti anche se poi ancora insomma non siamo stati brillanti in certi momenti a rimbalzo perché qualcuno a 16 anni ci sta che ti dimentichi magari di fare un passo verso la palla piuttosto che un taglia fuori. Dobbiamo lavorarci, è la prima partita per cui al di là della vittoria ho visto anche delle belle cose in campo per cui sono soddisfatto già per questo. Perfetto, grazie mille e complimenti. Grazie.